Incidente nella mattinata di giovedì 18 aprile intorno alle 9 in frazione Mastri, coinvolto un camion che proveniva da Mastri, una da Ciasandero e una Fierdoblò che arrivavano da Argentera. L'impatto è avvenuto nella settoia di Vibonaudi. Sul posto sono prontamente intervenuti la croce bianca del Canavese, i vigili del fuoco di Vrea e la polizia locale. Il bilancio è di un ferito in codice giallo, il conducente del Doblò e una ragazza contusa e sotto shock che era a bordo della Sandero, trasportate entrambe all'ospedale di Ciriè. Secondo una prima ricostruzione, la Sandero potrebbe essersi fermata per far passare il camion e il Doblò sopraggiunto, non riuscendo a frenare in tempo e dopo aver tamponato violentemente la Sandero, è finito contro il camion. La dinamica è comunque in fase di accertamento della polizia locale di Rivarolo Canavese. La mia Rispoltà ha wy کہato solo Allo poeta in Filiari sono pot institutionsi appena studiare in f率i in freddo staggianto che sono stati ovultati Grazie a tutti